I fondi del migliore europeo per la provincia è una novità, sicuramente, visto che le province sono state soppresse. Lei è stato bravo a, diciamo, patrimonio di tutta, a aver ottenuto questo finanziamento, oppure questa, diciamo, gratifica da parte della regione siciliana. Cosa è successo? Nel momento in cui le province evidentemente vengono svuotate, i competenzi vengono svilite del loro essere, siamo riusciti a dimostrare che non solo il mantenimento di queste risorse e delle nuove programmazioni, ma anche il potenziamento, è significativo. Oggi stiamo presentando una progettualità sull'impresa sociale dei giovani e, grazie a questi fondi europei, avremo l'opportunità di potenziare, sicuramente, dei territori, grazie all'OFIDER-BARLIN e al lavoro svolto sinnetico dell'elettronica, c'è ulteriori attività a loro favore. Dobbiamo cercare di far credere nuovamente ai giovani che c'è realmente la possibilità di uscire da questo momento di crisi. Si può parlare di cifre che saranno destinate ai territori? Sì. La regione siciliana ha recuperato 247 milioni di euro su due linee di intervento specifiche, una iutgaranti e una piano giovani. Ha cercato di condare le risorse che sono rivolte a due target di differenza, giovani fino ai 30-50 e giovani fino ai 24 anni, per creare un sistema unico su tutto il territorio regionale. Abbiamo proposto, abbiamo ottenuto che queste somme potessero anche essere destinate alle province per potenziare tutti quegli interventi che le province avevano avviato con gratificazioni e con risultati ottime, ma che hanno interesse e intenzioni di continuare a potenziare grazie a queste progettuali. Quindi il progetto 47 milioni di euro sfalmate? Sfalmate su diverse misure che sono legate a formazione, orientamento, ma soprattutto attività autoimprenditoriale. Quindi si sta cercando come in queste progettualità, per le province già finanziate dal Dipartimento della Gioventù che oggi ne presentiamo, si sta cercando di potenziare questi interventi e creare realmente incubatori di impresa per i giovani sul territorio, che vedranno le province a coordinare, o i liberi consorzi in alternativa, a coordinare questi interventi al fianco di tutti i comuni e gli enti locali che inevitabilmente oggi messano in una situazione di grossa identità.